E così qua, il vento molto forte si vede, si vede che muove le foglie delle foglie, impressionante. Cielo abbastanza cupo, aria freddina oserei dire. Il vento molto probabilmente si sente, perché è abbastanza forte. Siamo qui. Eccoci qua, peccato se non fosse stata una giornata di vento saremmo andati a sub smog, invece siamo qui perché il tempo è cattivello. Vento e tutto il resto, peccato la nostra, che carina era, completamente demolita qua, senza parole si potrebbe dire. Veniamo, la superstrada. Per dire, vabbè, che freddo! Qui cambia un po' tutto, si fa per dire. Tipo la stessa cosa, vabbè. Ma fa sempre freddo. Venti. Qui, qui, qui. Vedi? Vieni! Vieni, che sta arrivando l'ascensore. Dai, che facciamo il passaggio. Scusa, eh. Ammazza. Impiego un mese prima di arrivare. Stiamo facendo il piede. Ascenso di orrore. Sì. Sì. Come passa il tempo. Siamo nel 2.25. Molto bene. Sì. 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 Sì.